buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di calendario posturale oggi lavoreremo sull'equilibrio lo faremo stando in appoggio su un solo piede mentre una gamba oscilla avanti e indietro questo vuol dire che se anche solo a livello psicologico non mi sentissi molto sicuro posso rimanere vicino a qualcosa eventualmente mi posso addirittura appoggiare provando qualche volta a staccarmi dal mio sostegno ci andremo a posizionare dunque su una gamba l'altra gamba oscillerà tranquillamente avanti e indietro in maniera scansonata non devo cercare di farla arrivare più su possibile devo però cercare di letteralmente oscillarla facendo perno sull'anca nel senso che la mia gamba va avanti e la mia gamba va un pochino indietro rispetto a quella di appoggio quindi non è solo il ginocchio che si flette e si estende ma è tutta la gamba che oscilla ci focalizziamo bene sulla percezione di scarico del peso sotto il piede di appoggio quando ci sentiamo pronti chiudiamo gli occhi e incominciamo ad oscillare la gamba libera movimenti tranquilli lenti se mi serve posso anche andare molto lentamente ma E stop. Si scioglie bene e lo andiamo a fare con l'altra gamba, ci posizioniamo bene sul piede di appoggio, ci focalizziamo bene sulla percezione di scarico del peso, gli occhi si chiudono e si inizia a oscillare. Grazie. 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 Ricordatevi di oscillare la gamba anche un po' dietro rispetto all'altra e non solo afflettere e stendere il ginocchio. E stop, si sciolgono un po' le gambe e lo andremo a fare. Per l'ultima volta sull'altra gamba. Ci posizioniamo, occhi chiusi, sempre il cervello focalizzato sulla percezione di appoggio del piede di scarico del peso e si parte. Grazie a tutti. E ci possiamo fermare uscendo dalla posizione, scuotendo bene le gambe. E anche per oggi la nostra lezione è terminata. Noi dunque ci diamo, come sempre, appuntamento a domani. Noi dunque ci diamo, come sempre, appuntamento a domani. Noi dunque ci diamo, come sempre, appuntamento a domani. Noi dunque ci diamo, come sempre, appuntamento a domani.